ciao a tutti ragazzi come avete sicuramente notato su instagram ci sono alcune storie alcuni post dove mi avete impegnato a fare il caster effettivamente per wearena per la praticamente la società che segue la serie c siccome in a breve ci sarà anche la b esports quindi la serie b virtuale è stato deciso di aprire le selezioni per alcuni alcuni team alcune squadre non so se l'avete visto non l'avete visto vabbè vi avviso io quindi se volete candidarvi per far parte di una di queste squadre che adesso vi farò vedere ci sarà un modulo da compilare in maniera pre ovviamente così da fornire i dati a chi di dovere quindi a wearena che sta seguendo il tutto per poi essere poi contattati e far parte delle selezioni vedere un po di scremare il tutto e poi arrivare alla selezione finale quindi come funziona ragazzi fuori cana tube e ci spostiamo questa volta su pc perché non andiamo a vedere fifa ovviamente andiamo su pc allora partiamo dal principio nel senso sulla pagina instagram di lega b e di wearena è stato pubblicato questo post possiamo andare a candidarci per una delle squadre in elenco e affrontare la b esports quindi io la sto facendo un po breve giusto per darvi l'informazione corretta da seguire poi dopo leggete bene il tutto mi raccomando ci si può candidare per le squadre di como cosenza aciperugia sul tirol e benevento come vedete qui nella nell'immagine e come vedete qui nel post come si fa però a candidarsi se non avete visto le storie c'è il link che è stato pubblicato sia da lega b che di wearena appunto allora se non l'avete visto ve lo linko io qua in descrizione così avete un riferimento in più che può essere sempre molto utile allora il link adesso ripeto iscrizione ve lo metto ma vi porterà a questa pagina questa pagina che cos'è praticamente è un modulo di iscrizione per andare a candidarsi lo leggiamo insieme entra a far parte del progetto esports di lnpb stiamo cercando player per b esports campionato ufficiale esports e lnpb compiando il form ti candidi a diventare un player di un club di lnpb perché partecipa alla b esports praticamente qui si parte con le selezioni e poi chi sarà idoneo in questa prima scrematura verrà poi candidato verrà poi selezionato verrà poi contattato in primis soprattutto per gestire la situazione io mi fermo qui nel senso che non entro troppo nelle meccaniche perché non le conosco quindi va bene così è giusto un video di avviso nel senso di ragazzi se volete cercare di affrontare questa avventura della b esports candidatevi le squadre di esposizioni sono queste non ci sono limiti territoriali eccetera quindi è aperto ovviamente a tutti i maggiori di 16 anni attenzione a questa cosa dai 16 anni in su dato che effettivamente il competitive è da 16 anni in una volta compilato il form lo inviate c'è tutta la ci sono dei vari passi eccetera e io non lo faccio di come registrazione perché non avrebbe senso ovviamente una volta compilato il form ci sarà ci sarà poi la seconda fase dove si potrà essere contattati per andare poi approfondire il tutto mi fermo qui mi fermo qui perché dopo ripeto non voglio mandare avanti la documentazione di già già devo castare solo a che giocare finita ragazzi quindi mi evitiamo però intanto secondo me come tentativo di esperienza per andare ad affrontare un campionato competitivo ufficiale veramente poi a livelli comunque molto molto elevati quindi proprio professionistici è una bella opportunità provateci secondo me è molto è molto importante appunto per testare le probabilità e mettere il piede appunto in un mondo che può che sicuramente può piacervi soprattutto se siete fan di fifa e vi piacciono i competitive su questo gioco poi che dirvi non ho nulla da aggiungere c'è tutto a parte che il link è anche in teoria da qui dovrebbe esserci il link però c'è nella bio esatto nella bio di lega b di w arena trovate il link ma è lo stesso che vi linko qua sotto in descrizione quindi avete tutto sotto mano per qualsiasi informazione vi direi di contattarmi ma siccome preferisco che ci sia informazioni praticamente ufficiali e più precise rispetto alle mie che io io sto facendo due milioni di cose in questo momento quindi potrei dirvi una cosa per un'altra ma sicuramente meglio evitare allora contattate sempre per avere informazioni aggiuntive via rena e lega b così almeno non si sbaglia a me non siete a posto avete tutte le informazioni del caso che sono comunque queste e che dire ragazzi torniamo in regia torniamo in regia e per chi vuole tentarci sicuramente un'ottima opportunità e soprattutto divertente che è la cosa principale per questo per questo tipo di esperienze poi dopo si vedrà cosa potrà accadere lo scoprirete solo partecipando e magari avendo poi modo di mettere in mostra le proprie le vostre abilità nel mondo di fifa appunto su fifa 23 ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti se avete qualche dubbio per prestità eccetera vi darò una mano volentieri su le cose che mi competono ovviamente altrimenti per ogni informazione aggiuntiva mi raccomando sentite i ragazzi di via rena o di lega b come sempre ragazzi grazie per la compagnia per aver su questo video ci vediamo prossimo filmato ciao a tutti